Momente ragazzi sono Drago Rossi, bentornati in questo nuovissimo episodio di Drakan E' arrivato ragazzi il momento, è arrivato il momento di affrontare la prova Quindi Erok dovrà restare qua, purtroppo si faccio già un salvataggio perché non si sa mai La torre della sfida, allora Già la torre di per sé è una sfida, ok? Quindi già la torre in sé Per cui quello che ci sarà dentro non lo so Però io sono pronto, Erok resterà lì E' per forza Erok Allora Oh, ho sentito una porta aprirsi o chiudersi, non ho ben capito Ma mi sembra di sentire tipo lava Allora c'è questa roba qua Ecco Ma la posso riprendere tipo? No, ok, no, non posso riprenderla Quindi andiamo piano Io ho questa spada con il fuoco che tra l'altro mi fa anche luce Ma che Scusa Veramente Ma ci sono nemici qua dentro No, perché si richiude? Come faccio a uscire da qua? No, io ho paura che ci siano dei nemici Ah Oh Oh Ok C'è un C'è un cadavere Che Più che cadavere C'è uno scheletro Ehm Allora Devo trovare Qua non c'è niente Devo trovare qualcosa per No Non è un pulsante Mi è sembrato un pulsante Eh, ho capito che non ci arrivi Fammi vedere un attimo qua Le candele servono a qualcosa Non ho C'è una pressure plate Quindi Fammi un salvataggio Che cazzo Cosa ho fatto? Ah, aspetta Ah, ma ci sono delle Ma è tipo una combinazione Non ho capito Ah, e qua E qua c'è un altro Ok Ma solo uno O tutte? Vabbè Un cristallo Del gelo Ah, così a caso Cos'è questo? Lighting crystal Uh Ah, questo qua Ben cinque Ok Cinque Cinque utilizzi Ok Il cristallo Dell'elettricità Non male C'ho anche C'ho anche questo qua Del fuoco Ancora che Non ho usato Beh, bene Ehm Allora C'ho il martello Quoi Allora Non ho pozioni rosse Ho solo pozioni blu Però aspetta Ehm Ah C'è la pressione Questo è il coso del fuoco No? Infatti Quindi qua Quindi questa è una stanza segreta Sì, possiamo dire segreta Dove ti danno Dove ci sono queste Tre statue Che ti danno Tre cristalli Differenti Uno del fuoco Uno del Del fulmine E l'altro del ghiaccio E adesso però posso uscire Ah no Devo fare il giro Per di qua Ok Nemmeno sapevo Così Completamente a caso Però la porta qua resta aperta Ah ecco Vedi Mi sa che il bellhammer Allora aspetta Il bellhammer No Non va qua Ma perché c'è dell'acqua lì? Che cacchio c'è lì? Cosa c'è? Un mostro marino Un serpente marino Che cacchio c'è lì? Ah Lava mi sa Perché La sentivo già da prima No No Porco Porca vacca Lava si Magma è Allora C'è una roba qua Che è rimasta Però occhio che Qua ci si inzucca No Ok Salva Ma cos'è questo Fruscio Che sento? Zona Parkour Qui Ok Ok Qua sotto È dove sono Arrivato Arrivato Salva Ma che soffitto curioso Dal motivo strano Eh no però che No No ma mi viene L'ansia Sto Sto posto Grazie Ma mi viene l'ansia Questo posto qua Tutto Chiuso Stretto Sento Sento Suoni Che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma scusa ma per quale motivo Cos'è Prince of Persia Tomb Raider Che 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 è Ma sono Allora Vabbè a parte che sono tutti Desincronizzati Ma non riesco a capire Se vanno comunque tutti alla stessa Velocità Mi sembra Allora mi sembra che vadano tutti alla stessa velocità Solo Solo che sono completamente desincronizzati Quindi è un po' un problema questa cosa Ma c'è un punto dove mi C'è un punto sicuro Aspetta Eh vabbè Ci ho provato Ah ok Allora Questa zona è un po' un problema Allora non ci sono leve E' tipo Allora L'inizio è giusto Perché in realtà dovresti fare così E' qua che E' qui porca vacca Che c'è qualcosa che Mi sfugge Ok Uh Ok Salva 800.000 volte Però io ho ancora paura che ci siano dei Nemici Non so perché Questa statua mi dovrebbe dare qualcosa Ma non c'è niente in mano Ma che cazzo C'è una cosa segreta qua No Sembrerebbe di no Grazie per chiudermi la porta Oppure Eh C'è la lava Allora Ah ma qua è tutto a tempo Uno Due Uno Due Ok Questo è sincronizzato Allora Uno Due Uno Due Uno Due Uno Due No dai Uh Ok Scusa qua ma che cazzo Cioè qua Proprio mi verrebbe da dire Ecco Qua ma Allora qui mi verrebbe da dire De floris lava È una frase pertinente Scusa ma questa leva che Che cosa mi dovrebbe fare scusa Che cacchio attiva Che cacchio mi ha attivato Ma qua non posso andare da nessuna parte Allora non so che cosa ho attivato Un porco Ah di qua Ah di qua Ok Allora qua c'è un'altra leva Allora queste leve penso serviranno a qualcosa Ah abbassa 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 la lava Ok Lì c'è un cristallo Aspetta ma posso fare direttamente così Scusa eh No Magic key Magic key Chiave magica E che cacchio mi E che cosa ci dovrei fare con questa spada C'è spada C'è spada Chiave Ah qui Altrimenti Ah no è solo un'unica via È solo un'unica via Non c'erano altre No a parte che qua non riesco Non riesco a vedere bene però Vabbè Sì Effettivamente sì La chiave serviva proprio per questa porta qui E si sale ancora Ok Perché c'è quel simbolo là Strano Che cosa mi dovrebbe rappresentare No Che cazzo No ma che cacchio è No ma non si muoveva più Così? Così? Senza un motivo apparente Ma Vabbè Aspetta questa è una cosa segreta Riesco Riesco a vedere perché Perché qua è diverso Vedi? Allora quindi qua ci dovrebbe essere Molto teoricamente Una Un pulsante segreto Ah È una spada Posso? Eh Flammer E poi questa mi sa che è a tre slot E niente Cos'è? Ma qua c'è un pulsante Aspetta Ok Ma qua comunque c'è un pulsante Ah Questo Infatti Stanza segreta E che cosa mi dovrebbe portare? Che cacchio? Eh Ok Stiamo lontani Vedo una roba là Che non so che cos'è Non capisco che cosa Cosa è quella roba Là in fondo Ma penso che ci devo andare Ma che cacchio sono Bare queste? Perché ci sono delle bare? Ma si Ma Oh Oh Porca vacca Mi sono spaventato Per un momento È un'armatura questa Che è la stessa Che c'ho io Questa qui è Vabbè Vabbè Non Vabbè È uguale alla mia E non ce n'è bisogno Perché questa qua È ancora tipo 99 su 100 Quindi Vabbè No è È la Stessa mia armatura Allora Queste Non ci posso Inter No No eh No Io ti proibisco Porca vacca Guarda come Come si incastra male Ok allora Una Una cosa negativa Ma L'ho già detto In realtà Che Che questo gioco Ha Ha delle serie Difficoltà Di Quando Di Collisione E Spesso e Volentieri Se succede Questo Quello che avete Appena visto Allora Potrebbe essere Un'arma Eh mi sa A vedere così Ma che Sì è un'arma Ma che è Un'alabarda È per forza E Ma non Ma non posso C'ho Le bellammer Che mi Occupa spazio Però Le bellammer Mi serve Niente Niente Sono Costretto A lasciarla Lì Cioè Grazie Però Purtroppo C'ho Le bellammer Potrei Ritornare Indietro Una volta Che lo Usiamo Cioè Che Mi Mi Sarò Tolto Il Bellammer Però Spero Spero Che Questo Accessor Rimanga Aperto Eh no Però Mi Chiude Vedi Ah ma Meno Che Ma che Cacchio No Ok C'è La Fessura Qua Ah Ma È Tipo Un Ascensore Ah Tipo Sì Quindi Devo Centrare Il Buco Così Più O Meno E Aspetta Ma abbiamo Già Raggiunto Il Tetto Tipo Sembrerebbe Di Sì Tipo La Parte Più Alta Credo Non Lo So Magari È Un Ingano Se Non Ho Capito Scusa Sai Che Non Ho Capito Ma C'è Un Buco Oh Scusa Ma Che Cosa Devo Fare Quando No Ben Capito Aspetta Ho Capito Questo Devo Fare Giusto Vedi Vedi Mannaggia Il Gelfling Maledetto Il Bel Ecco Vedi Adesso Il Bell Hammer Non C'è Più Ma Ma È Un Vortice Di Qualcosa Ma Che È Un Portale No Io Non Posso Più Tornare Indietro Perché Perché La Porta È Bloccata Mi Sa Niente Mi Butto Mi 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 Butto Qua In Questo Vortice Che Cacchio Devo Fare E Saltiamo Ui Aspetta Dove Siamo Qui Ma Aspetta Ma Mi Sembra Di Vedere Qualcuno Lì Orco A Qualcuno Si Che Mi Ha Appena Lanciato Una Roba Non So Che Cosa E Mi Sa Che Mi Tocca Segui Mi Mi Tocca Seguirlo Ma Qua Dentro Non C'è Niente No Mi Sa Di No Vabbè Comunque Si Questo È Un Nuovo Livello Non Ti Incastrare Niente Quindi Quelle Armi Là Ce Le Siamo Perse Per Sempre Vabbè Ce Ne Faremo Una Ragione Tanto Ne Ho Ancora Delle Altre Quindi Non È Che Sono Accorto Ma Chi È Quello Ma Chi È Ma Allora Sento Dei suoni Abbastanza Orribili Orribili Inquietanti Che Cosa No Questi No Questi qua Sono Sono Un Casino Da Sconfiggere Allora No Allora Aspetta No No Io Devo Tenerli Sott'occhio Anche Posso Usare Questo Allora 26 Che cos'è Ehm Fleming Arrow Aspetta No L'ho messato Tantissimo Missato Pre Ok Eh ma Questi Ci hanno Un casino Di vita Perché sono Perché sono Corazzati Vabbè La cosa Positiva Che sono Che stanno Fermi Immobili Sì Questo Lancia Vabbè Dove Vuole Lui Ho Finito Ho Finito Le frecce Ah Ho usato Le Le Explosive E Mi rimetti No Questo Qui Ehm E niente Lascia Lascia Così Che cacchio Ti devo Dire Aspetta Questo qua Aspetta Questa Spada Ah ok Questa è Quella Sua Originale Vabbè Eh Ovviamente La porta Si chiude Che cosa Non è posizionata Bene Fatto male Allora Teoricamente Le frecce Dovrei riuscire A recuperare No Non posso No Queste no No Niente Orco Ma guarda Quanto danno Fa Scusa Eh No Ce n'è Un altro C'è Un altro Là in fondo Che mi Lancia Le cose Aia Ehi Ma perché Non si protegge No Non ti Incastrare Non ti Incastrare Chi è Eh Vabbè Ma quanti Sono Ma che Ma perché Svolazza Ma perché Svolazza Aspetta Oh Ok Allora Va bene Ora ho C'ho Un doppione Di questa Arma Per il momento Per il momento Me la tengo Però Però Cazzo Quanto Quanto Fa danno No Vabbè Là Non ci arrivo Devo andare Per forza Di qua Allora Allora Di qua Si sale Di qua Si scende Dove vado Allora Allora Qua c'è Una leva Di qua Ok Che cacchio Che è un altro cristallo Del fuoco Ok Ho capito Quindi questo Potrebbe essere Il secondario C'è la strada Secondaria Mentre questa È la primaria Credo Ah non ci arrivi C'è il braccio Sì Vabbè Allora Non lo so Se L'ho aperta Sì L'ho aperta Non è vero O sì Sì o no No Non è che Qua Magari Devo Non c'è un Un coso Nascosto Una pietra No Vabbè Ho attivato Sta cosa qua Quindi Cos'è questo Ma cos'è Sto Bucchetto Ah ecco cos'è Ah proprio Uno Non lo so Allora Cos'è Una combinazione No Ancora Allora Allora Uno Due Tre Quattro Eh ma devo fare veloce Vedi Cosa c'è qua Ma qua Non c'è niente E questo penso lo disattiva Cioè che cacchio No scusa Qua come faccia adesso Non so ma devo restare qua su Che cacchio devo fare No Allora su questo coso Non ci posso interagire Non posso interagire Nemmeno Con il muro Non c'è niente C'è Solo una cosa qua Però non fa niente Niente Mi tocca Riavviare qua Il livello Aspetta Cioè devo riuscire A prendere Questa pressure plate E ritornare Nuovamente indietro Cioè Mi stai chiedendo Qualcosa di abbastanza Difficoltoso Qui Qua non posso andare Qua è tutto bloccato E anche qua Non posso Ora questo è il primo Questo è il secondo Sì ma ce la faccio Ad andare di là E poi ritornare indietro Non credo No in realtà Sì fermi Fermi che ci sono riuscito Ecco Ah ma è tutto un Scusa eh Ah Ah così Così era Recover the rift crystal Ah ed è questa Tutta la mappa Porca vacca Allora io sono lì Ma cosa c'è Una voragine Lì in centro Ma lo vedi E poi c'è E poi c'è Delle cose strane Delle Delle stanze strane E poi Qua sulla destra Vedo tipo una sorta Di mirino Non so che roba è E poi tipo una sorta di portale All'estremità Guarda Ok Va bene Ho fatto Salvataggio Vabbè Ho fatto un altro salvataggio Perché questa stanza Veramente Veramente È stata un incubo Meno male che È durato Relativamente No aspetta Dove cacchio va Aspetta Aspetta che qua Mi sto perdendo Di qua eh No sembrerebbe No però scusa Posso ritornare indietro Se voglio Sì ok Ma la stanza Ma quella stanza Là in alto Adesso È aperta Per caso No chiedo Se è ancora chiusa Non è Non è Ci ritorno più Ok è ancora chiusa Ah ma mi sa che Forse devo fare Tutto il giro Per arrivare Per Per di qua Mi sa eh Non lo so Va bene Allora di qua Non ci ritornerò più Andrò Andrò direttamente Dall'altro lato Anche se probabilmente Finiremo Questo Non so Questa torre Questa cosa Nel prossimo episodio Mi sa Allora Un'altra leva E tiriamo la leva Sicuramente Serverà qualcosa Allora Ho aperto qualcosa Perché ho sentito Proprio il meccanismo No Che cacchio Oh Ecco No però Questo lo devo Allora Aspetta posso fare Allora Non mi colpisce Ok Allora Prendo questo Che c'ha le cose Di ghiaccio C'ha le cose Di ghiaccio Si Ne ho 8 Non so se bastano Io ci provo Aspetta Al prossimo No L'ho missato Tantissimo E niente Ho dovuto usare Una roba C'è Una Una roba Certo Vai Prendi questo Ok Ho Dovuto usare Una Una freccia magica Adesso Questo è aperto Vero Ah Ok E niente No Ritorno indietro Perché Perché quella cosa Anticristallo È importante Anche se ancora Non è Non ne l'ho Mai usata Quindi sei cosa Prendo quella cosa Di cristallo Fai un insalvataggio E direi che Per questo Episodio È tutto Capporca vacca Questa stanza Quanto La odio Quanto la odio Questa Questa stanza Allora Ah Questa stanza Ancora che lanciano Le cose Vero Sei in basso Sei in basso Di qua Ma ce n'è uno Anche di là Ho sbaglio Vabbè Comunque È qua Giù Eh niente Mi toccherà Usare l'arco Per ammazzare Quelli Uh Due Bauli Prendilo Fire Crystal Infatti Cosa c'è qua Ah il coso Dell'invisibilità È pozione Dell'invisibilità Ok Però Oh Ti ringrazio Sì Vabbè Non è che Allora Eh c'è questa Dell'invisibilità Che possiamo Metterla qua Questo Qua Ok 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 Ho usaurito Tutte le frecce Mi restano solamente Queste magiche Ben Ben nove Poi Posso anche Buttare l'arco Cioè Nel senso Ok Qua non c'è un modo Per Per Sbloccare Questa cosa qua Magari No eh Troppo comodo Sarebbe stato Va bene Allora ragazzi Visto che questo è un punto Abbastanza sicuro Da quello che Sto notando Per cui direi che Possiamo Fermarci qui Quindi ragazzi Direi che per questo Episodio di Dracan Direi che È tutto Vi ricordo che Se non siete ancora iscritti Al canale Di iscrivervi Se volete mangiare Aggiornati sui prossimi Episodi Di questo gioco Di tutti i futuri Episodi Delle serie Attualmente attive E anche se Volete sapere Quali future Serie Arriveranno Sul canale Di mettere un bel Pollicione su Se vi è piaciuto Questo episodio E mi raccomando Di dare anche la vostra Nei commenti E noi ce li sentiamo A un prossimo video E noi ce li sentiamo